I militanti ucraini stanno cercando di colpire obiettivi e di colpire semplicemente qualsiasi cosa che possano qui nella città di Kursk e anche nelle città vicine. Non passa un giorno qui senza il lamento delle sirene antiaeree e scoppi ed esplosioni in aria, mentre i sistemi di difesa aerea russi lavorano in modo incessante e non hanno davvero nessun riposo. Allo stesso tempo i combattimenti continuano davvero più vicino, al confine. Entrambe le parti hanno cercato di attaccare e i militanti ucraini stanno cercando di espandere l'area di controllo che hanno attualmente nella regione di Kursk. Tutti questi tentativi sono stati respinti dall'esercito russo. Il ministero della difesa russo ha pubblicato video online di attrezzature nato in fiamme e semplicemente personale militare ucciso. Allo stesso tempo per quanto riguarda i combattimenti al confine. Questo è lontano dall'unico punto caldo sulla mappa per quanto riguarda il territorio russo riconosciuto a livello internazionale. La vicina regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno anche cercato di attraversare il confine per continuare con questa incursione di confine e guadagnare un punto d'appoggio sul suolo russo. Anche questi tentativi sono stati sventati, ma i combattimenti al confine sono stati molto intensi. Infatti le autorità locali hanno offerto evacuazione temporanea e hanno infatti consigliato l'evacuazione temporanea ai residenti di uno di questi distretti statali e infatti ai civili. È stato temporaneamente vietato di entrare in quel distretto semplicemente per scopi e per la loro sicurezza. Certamente per quanto riguarda le autorità russe e il governo russo sono determinati a riconquistare il controllo dell'intera regione di Kursk. Non solo sono diminuiti, ma al contrario, sono aumentati, aumentati di una volta e mezza. È stato in fiamme nella sua base, una sorta di area di fondazione. La preoccupazione era che potesse addirittura crollare. Hai qualche aggiornamento su come procede quella indagine? Beh, finora l'IAEA, ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, quella che hai appena menzionato, per tutta la storia di questo conflitto, si è mostrata molto preoccupata per la situazione della centrale nucleare di Zaporoggie. Ma finora il loro coinvolgimento si è limitato solo a questo. Si sono astenuti dal dire chi fosse responsabile di quell'attacco. E per quelle immagini molto drammatiche di una torre di raffreddamento in fiamme dopo un attacco con droni hanno solo chiesto a entrambe le parti di mostrare moderazione. Davvero. Quindi quando hai questo e quando hai il fatto che la struttura è ben sotto il controllo russo e il personale russo, personale russo come i lavoratori russi, sono distanza lì, sono loro a gestirla. È sotto la gestione russa in questo momento. Quindi davvero ha molto, molto poco senso che la Russia si bombardi da sola. Quindi è difficile, è difficile mettere in dubbio chi sia responsabile di quell'attacco. Sembra che l'IAE abbia semplicemente le mani legate da alcuni superiori, da alcuni poteri più alti, poiché non possono semplicemente fare appelli pubblici al regime di Kiev per fermare gli attacchi, dato quanto la situazione sia storicamente nel corso di questo conflitto diventata molto, molto potenzialmente tragica e disastrosa. Grazie.